Lo sai qual è il corso online, in lingua italiana, più venduto nel mondo? Il corso che ha raggiunto oltre 146 paesi del globo? Era completo già alla sua nascita e durava tre ore. Ora è rimasto allo stesso prezzo, giuro. Anche se ne dura oggi più di 26. Beh, se sei curioso, sei ad un clic per scoprirlo.